musica musica Luca Lottiero grandissimo gol numero mamma che gol buonasera quarta giornata social cup che vede sfidarsi Barcellona ora sul punto di battuta condizione sprecata contro i Bunga Bunga Soccer il giocatore Pistone si aggiornerà il risultato Michele Ciotola ciao ragazzi buonasera siamo appunto Barcellona Bunga Bunga risultati di 1 a 0 grazie a un grandissimo gol di Luca Pistone numero 99 che ha realizzato un fantastico gol di rovesciata spalle alla porta fortiera che ha respinto alla grande un tiro da fuori lui si è coordinato davvero alla grande realizzando l'1 a 0 per i ragazzi in competino nero la maglia del Baccellona vedete bellissima era davvero fantastica questa maglia aiuto a andare a essere veloce di girare molto bene la palla sta meritando questo vantaggio e adesso vediamo ci aspettiamo una reazione dei ragazzi in competino viola del Bunga Bunga la scuola di Celentano grazie Michele ora andiamo appunto il Bunga Bunga con il numero 6 il Cernera Cernera ancora il Bunga Bunga il tiro numero 11 ci fa rendo calcio d'angolo calcio d'angolo per il Bunga Bunga ora il Barcellona costretto a difendersi nella propria metà campo alla battuta il tir Celentano crossa al centro si chiude bene la difesa Blaura ancora Celentano parola per il numero 6 parola per il numero 6 Cernera la palla esce fuori rimessa dal fondo che verrà battuta da Momo il portiere del Barcellona ora vediamo il Barcellona che manovra con il numero 2 che però pasticcia un po' la difesa del Barcellona con confusione ecco vediamo il numero 2 Santoro Santoro che serve Pistone in dribbling in destro palo esterno per lui sfortunato in questa frazione di campo ecco vediamo l'estremo difensore di Bunga Bunga ok lascia partire un campanile che viene contrastato lo Pistone fa il 2 a 0 tutto solo davanti al portiere che non fa nulla difesa distratta del Bunga Bunga che si fa soffrendere il contropiede risultato di 2 a 0 Barcellona con Pistone ora è sul punto di battuta di Bunga Bunga gran destro contrastato dal Barcellona ora vediamo il rimesso laterale il numero 6 di Bunga Bunga palla al centro per l'unici che però non riesce ad arrivare sulla sfera palla un pizzico troppo lunga ancora il Barcellona che prova a ripartire palla al centrocampo cross al centro estremo difensore un po' in uscita sgangherata colpisce l'attaccante del Barcellona che si fa male ma nulla di grave si ripartirà l'allarmista dal fondo che verrà battuto ora vediamo il numero 6 di Bunga Bunga palla laterale ancora vediamo il tiro Momo sicuro controlla la palla e lascia ripartire la propria squadra Barcellona per il passaggio in aria vediamo ora il numero 2 palla al centro per il 3 ora pistone palla lunga irraggiungibile ora vediamo che prova a ripartire Bunga Bunga la palla lunga ma è accertata dall'estremo difensore Momo ancora Barcellona con il numero 10 palla al centro si chiude il colpo di testa con il numero 99 del Barcellona non riesce ad essere incisivo il Bunga Bunga le azioni più pericolose sono quelle del Barcellona che si chiude bene in difesa riesce a ripartire in maniera splendida il destro trovato dal capitano il numero 25 che finisce di poco a lato ancora Barcellona possesso palla ancora il numero 10 a torre d'uno gran gol doppietta per lui ancora il destro la parata dell'estremo difensore e poi la rete la rete del Barcellona che allunga facendo tre gol con con il numero 69 D'Angelo chiudiamo il collegamento il primo tempo con il risultato di 3 a 0 da Boateng secondo tempo tra Barcellona e Bunga Bunga Soccer ricordiamo quarta giornata del girone A1 che vedrà che vede affrontarsi appunto Barcellona contro il Bunga Bunga il risultato ci verrà aggiornato dall'inviato Michele Ciotola siamo sul 4 a 0 per il Barcellona gara possiamo dirlo a senso unico i Bunga Bunga faticano terribilmente a creare occasioni da gollo nel secondo tempo è arrivata anche la seconda rete di Luca Pistone per il 4 a 0 poi anche il migliore in campo di Bunga Bunga è sicuramente l'estremo difensore il portiere Marra autore di grandissime parate il capatore è sempre una tua migliore davvero un gran portiere Bunga Bunga davvero troppa difficoltà nel creare vediamo se riesce a fare qualcosa in questo finale ospite d'onore qui con noi Sergio Stanziano che commenterà insieme a me la telecronica della partita che vede il Barcellona avanti di 4 reti a 0 ora in possesso di palla è Pistone Salvatore il cugino il mancino grande talento per lui ancora Pistone in aria ricordiamolo dal bivaio dei Martorelli team Martorelli wind scusate braccio di Pistone ancora è Barcellona in attacco con il numero 99 che lascia partire un bolide Gambardella l'autore del 5 a 0 Barcellona in totale confusione i Buga Bunga Soccer che riescono cioè non riescono ad essere incisivi lì davanti e distratti nella retroguardia ancora Barcellona ancora Barcellona con Pistone si avanza palla al piede serie di dribbling ancora lui padrone del campo per il numero 99 Luca Pistone ancora Stefano Gambardella palla al centro D'Angelo Sprega sottoporta con un colpo in testa sbilenco si salva Buga Bunga che ora prova a ripartire con l'estremo difensore che lancia a lungo ancora Pistone in possesso di palla avanza palla al piede si accentra palla al piede allarga per adesso D'Angelo interviene Salvatore Pistone si porta palla sul test su praticamente il suo piede inutile completamente vuole fare il personaggio con i lacci arancioni però sappiamo che togliendoci il sinistro non succede niente ancora alza un campanile il Bunga Bunga Salvatore Pistone dimessa laterale battuta pure in possesso palla Salvatore Pistone Salvatore Pistone che serve il cugino Luca Pistone ancora Salvatore il tunnel splendido si accentra ma si chiude bene l'anfettura del Bunga il tir il fratello Valerio il fratello minore ancora Barcellona Barcellona aggressivo per Gambardella Gambardella Santoro ancora Santoro Garbandella si alza il pallone e termine prova a destreggiarsi in area di rigore ancora passaggio a fondo ancora il tacco di Pistone numero 99 del Barcellona stava di grazia è riuscito riesce praticamente tutto anche una rovesciata nel primo Marra lungo Santoro Salvatore Santoro Satelli Bunga Bunga che non riesce ad impensierire la difesa Blaugrana che si chiude perfettamente non lascia spazi alla squadra avversaria che ora batte la rimessa laterale al centro manca il controllo il capitano chiudiamo il collegamento ricordiamo il risultato di 4 a 0 Barcellona seguiamo quest'ultimazione Barcellona sottoporta i due Pistone la coppiata vincente ancora Salvatore sul sinistro palleggio il tiro impossibile chiudiamo qui il collegamento da Boateng e da Sergio Stanziano